Sergio, hai mandato la grafica per approvazione? Ah brava, non ancora, lo faccio subito Ragazzi ma ci pensate che sta arrivando il Natale? Mancano solo 100 giorni E vabbè ora vorrà dire che iniziamo con molta calma a lavorare alle campagne natalizie per i nostri clienti Non c'è fretta Bene ragazzi io direi che oggi come prima giornata può bastare Prima giornata Paolo eh?